Buongiorno amiche e buongiorno amici bianconeri, bentrovati giovedì 27 luglio ancora qui sul mio canale, titolo del contenuto il viaggio della speranza, di cosa parliamo lo scopriamo insieme, prima però come sempre mi raccomando continuate ad iscrivervi al mio canale youtube, quota 20.000 è stata superata ma non fermatevi, continuiamo a crescere, community che deve continuare a trattare questo che è il mondo juve, viverlo insieme, commentarlo quotidianamente, allora iscrivetevi al canale youtube, attaccate la notifica, mettete un bel like al contenuto in fondo alla puntata, se questa sarà stata di vostro gradimento. Il viaggio della speranza è dedicato ovviamente al viaggio di Cristiano Giuntoli che è salito sull'aereo per gli States insieme alla squadra, per stare accanto alla squadra, vivere un pochino i momenti, l'affiatamento del gruppo, cominciare a capire quelle che sono le caratteristiche del gruppo a disposizione di Massignano Allegri, salvo poi fare rientro anticipato e dedicarsi un pochino al mercato per cercare soprattutto di sbloccare le situazioni in uscita, quelle che consentirebbero alla juve di continuare a fare mercato perché come da suo annuncio, come da sua comunicazione in sede di presentazione il mercato in entrata della juventus è sostanzialmente finito. È una bugia ovviamente perché il mercato della juve non vorrebbe essere finito. È finito nel momento in cui la juve è bloccata da queste eccessioni, se non ci sono le uscite non ci saranno le entrate, anche se negli ultimi giorni si è paventata l'ipotesi di fare l'operazione Lukaku nonostante la non uscita di Dujan Vlakovic che come sapete era l'obiettivo primario in uscita. Non ci sono offerte concrete per il giocatore serbo che abbiamo raccontato in questi giorni essere ancora afflitto dai problemi della cubalgia che ovviamente non stuzzicano così la appetito poi dei club che debbono avvicinarsi alla questione attaccante e soprattutto all'investimento importante per un attaccante importante se questo attaccante non è nelle migliori condizioni di potersi esprimere e ad oggi Dujan ha dimostrato di avere delle difficoltà nell'esprimersi al meglio proprio per questi problemi che lo attanagliano. Ma Cristiano Giuntoli è al lavoro e all'opera perché nelle idee sue di Massimiliano Allegri della Juventus ci sono almeno due barra tre operazioni ancora da portare a termine e come detto Lukaku è certamente la più importante quella più insistente che la Juventus vorrebbe fare a tutti i costi nel giro anche di breve. Che cosa fare per poter fare questa operazione? Beh ci deve essere certamente l'uscita di un attaccante non sarà Dujan Vlakovic molto probabilmente e allora si lavora all'acquirente per Federico Chiesa. Federico Chiesa giocatore che non è ritenuto indispensabile da Massimiliano Allegri non è mai scoppiato il feeling non è un mistero Federico Chiesa che mi viene raccontato non essere diciamo parte integrante del gruppo nella così nella torneia americana nel senso non tanto che non si sia integrato con il gruppo nel senso che risulta essere un pochino rispetto ai compagni estragnato risulta essere non propriamente di buon umore. Evidentemente c'è qualcosa ci sono situazioni in corso sappiamo quanto anche la comunicazione social nel 2023 si è diventata molto importante anche per capire quelli che sono gli umori dei calciatori degli sportivi dei professionisti dello sport e non solo. Quindi Federico Chiesa rimane comunque un oggetto del desiderio di società di Premier League. Cristiano Giuntoli che sta sondando attraverso anche il Fido Scudiero Giovanni Manna un pochino il mercato per comprendere quale può essere l'offerta migliore per la Juventus. Detto ciò ci sono altre situazioni che vanno sbloccate c'è quella ad esempio di Denis Zaccaria che l'USM voleva fortemente è trattativa abbiata abbiatissima poi si è arenata sul più bello l'offerta è ferma i 13 milioni la Juve ne chiede 18 barra 20 è uscita la possibilità tra l'altro presa in considerazione dallo stesso giocatore del Monaco che offre di più del club britannico e quindi Giuntoli sta lavorando per limare quelli che sono diciamo che definiamo i dettagli che poi non sono dettagli perché la richiesta della Juve non vuole scendere al di sotto scusate dei 18 milioni l'offerta dei Monegaschi non vorrebbe andare oltre i 15 si lavora sui bonus si cerca di capire se ci sono margini per chiudere l'attrattiva in tempi brevi perché sono i tempi il tempo quello che stringe direi abbiamo parlato dello Spartiaco il tempo quello di una per quello di capire cosa ne sarà della Juve di questa stagione se dentro la Conference League se esclusa la Conference League anche in funzione di ulteriori operazioni di mercato che potrebbero essere sviluppate o meno perché una Juve che farà la Conference League potrebbe avere anzi avrà diciamo necessità di avere una rosa un pochino più corposa per poter dar spazio un po a tutti per poter contravvenire ad eventuali infortuni una Juve senza la Conference League è una Juve che ovviamente non necessitarà di ulteriori puntelli nella rosa una rosa che viene già ritenuta giusto o sbagliato che sia per me non lo è ma giusto o sbagliato che sia altamente competitiva anche per competere per lo scudetto è vero non sempre amici il più forte dipende da tanti fattori la Juve certamente ha una rosa che si disposta in campo in maniera diciamo consona se ci sono le giuste motivazioni se si creerà la giusta alchimia di gruppo può certamente competere anche per le zone alte della classifica ma il mercato in entrata per quanto ci è stato raccontato non si può considerare chiuso perché le operazioni si sta cercando di portare a termine e notizia di qualche ora fa un interesse uscito che potrebbe essere anche interessante davvero per la Juventus che va un pochino non dico sconvolgere ma certamente a cambiare quelli che sono i piani di mercato è quella del Bayern Monaco che per fare l'uscita di Sommer sapete essere cercato dall'Inter vuole un portiere di un certo livello un portiere affidabile di esperienza anche possibilmente dai costi contenuti e nella lista dei papabili è finito anche Voic e Szczesny un Szczesny che si è sempre detto voler continuare e arrivare alla scadenza regolare del contratto con la Juventus nonostante la Juventus non si strapperebbe i capelli qualora dovesse partire non perché non ritiene Szczesny un giocatore affidabile ma perché nel nuovo programma di tra virgolette rissanamento un po' dei conti ci sono ingaggi che la Juventus farebbe veramente volentieri a meno di poter sopportare e allora l'uscita di Voic e Szczesny che ha un ingaggio da 7 milioni di euro netti stagione potrebbe veramente prendere quota qualora il Bayern desidesse tra la lista dei papabili di affondare il colpo su Szczesny la Juve valuta il giocatore circa 20 milioni sono tanti nonostante il giocatore sia affidabile ha una grande esperienza internazionale nazionale polacco però è un giocatore che ha se non sbaglio 32 anni un ingaggio molto importante e quindi il Bayern prima di affondare il colpo su Voic e Szczesny sta sondando altri terreni e sta valutando giocatori di un portiere di un certo livello la Juve è certamente con le antene dritte disposta a scendere anche di valutazione sul cartello del giocatore pur di fare l'affare anche perché non dimentichiamolo che alle spalle vanta un portiere di assicura affidabilità di assicuro affidamento che quando è stato chiamato in causa ha dimostrato assolutamente di essere affidabile di essere un giocatore che può reggere la pressione di una porta importante come quella della Juventus che è ovviamente Mattia Perin e quindi attenzione alla pista Voic e Szczesny che certamente per quanto abbia sempre dichiarato di voler concludere la propria carriera a Torino o perlomeno onorare il contratto fino alla fine a Torino ovviamente di fronte alle sirene di un Bayern che chiama non è rimasto insensibile e sarebbe disposto a trattare così come attenzione alla posizione di Franke See Franke See l'accordo vi ho raccontato già nei giorni scorsi con la Juventus per quello che ovviamente mi è stato raccontato è assolutamente totale c'era anche la disponibilità del calciatore a trattare ovviamente ci sono le insidie, le insidie si possono chiamare Champions League perché sul giocatore ha mosso i primi passi il Tottenham il giocatore piace in Inghilterra e piace anche ad altri club che disputeranno la Champions League di conseguenza prima di accettare un'offerta anche allettante da parte della Juventus una sfida anche importante della Juventus e su questo so che sia Allegri che Cristiano Giuntoli stanno lavorando perché l'opera degli operatori di mercato, direttori sportivi, degli stessi allenatori a volte è proprio quella di cercare di lavorare ai fianchi certi giocatori per convincerli della bontà del progetto, per convincerli della bontà della loro posizione in quel progetto lo fece Marsegna Allegri con Adrienne Rabiot, si sta provando a fare lo stesso con Franchesi ma attenzione perché nelle ultime ore, ripeto, la posizione di Chessi sembra essersi un pochino complicata di fronte alle richieste di altri club che disputeranno la Champions League la Juve ha in serbo due nomi importanti uno è un nome già conosciuto che è quello di Cup Miners dell'Atalanta operazione difficile perché l'Atalanta chiede una cifra molto importante la Juve in questo momento ovviamente è difficile che possa pensare di spendere certe cifre si parla di non meno di 25-25 milioni e poi c'è il giocatore dell'Udinese Samarzic che è un pallino, un vero e proprio pallino di Cristiano Giuntoli quindi le alternative non mancano quello che manca in questo momento è fare le uscite deve uscire Luca Pellegrini, destinazione Lazio non lo so perché alla fine può darsi che il ragazzo tenendo puntati i piedi quindi ottenga la possibilità di andare alla Lazio con un Lazio che offre meno di quello che ha offerto ad esempio un Nista che vorrebbe il giocatore da subito e sarebbe disposto a pagarlo meglio di quanto invece non sia disposto di fare la Lazio quindi situazione abbastanza di stallo c'è la data, quella per l'esclusione o la conferma dentro la Confidence League e ci sono giocatori che in questo momento tra chi punta i piedi tra chi la Juventus chiede e ancora non arriva ad ottenere ciò che vorrebbe che bloccano il mercato in entrata della Juventus però questo mercato in entrata richiede o meglio vorrebbe che comprendesse Lukaku certamente un centrocampista da fare, si parla di che sì ma attenzione ci sono nomi come Kupminers e Samarzic che debbono essere tenuti in considerazione anche in virtù di possibili contropartite interessanti per i club ovviamente di appartenenza di questi due giocatori e poi c'è sempre quell'esterno a destra che è una diciamo volontà di Massimiliano Allegri di andare a puntelare la zona di campo i nomi sono sempre quelli da Timoti Castagna e Emil Holm ma in questo momento io continuo a ribadire mercato bloccato ma attenzione ci sono sempre quei prestiti determinati dagli esuberi di top club che diciamo alla fine, verso la fine del mercato si vedranno costretti a cedere un po' alle lusinghe sia dei loro giocatori che degli altri club per fare l'uscita in prestito e la Juve su questa è molto attenta grazie al diciamo conoscenza del mercato di Cristiano Suntoni ditemi la vostra, ci sentiamo presto io vi auguro una buona giornata e come sempre fino alla fine Forza Juve